ciao a tutti ragazzi e benvenuti sull'Octor D Channel come sapete sto facendo il videotravel e sono qua insieme degli amici incontrato questa gente brutta gente abbiamo un ballottelli una bassina e poi il simpaticone beh direi che il primo vlog lo vedo tra una volta ciao ciao a tutti ciao a tutti ragazzi ci vediamo dopo come join us we'll make it come join us we'll take it take me home to samsara samsara home to samsara samsara home to samsara 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 ciao 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 Grazie a tutti Samsara Grazie a tutti Grazie a tutti